Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Ma non penso minimamente che sia colpa mia. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha! Oggi parliamo di YouTube, senza piangere. Ci serve a noi per farvi capire alcune situazioni, per spiegarvi le scelte che prenderò da qui al futuro e capire insieme che bisogna fare ragazzi, perché mai come adesso penso che potrebbe essere finita. Io non sono uno di quelli nostalgici che dice era meglio YouTube prima alla YouTube Prime. No. Penso che adesso sia una YouTube migliore. C'è molta più qualità, c'è molta più scelta. Se dovessi però indicarvi quella che io ritengo la YouTube Prime, vi direi la YouTube prima degli Shorts. Un giorno prima! Perché gli Shorts hanno veramente sminchiato tutto, hanno inflazionato e hanno riempito la piattaforma. Da monnezza sostanzialmente. Questo sì che per me è l'inizio della fine, ma sapete che ne penso. YouTube è cambiato, ma credo che ve ne siate accorti anche come spettatori. Ora, io non voglio parlare dei problemi, perché ce ne sono e ci sono sempre stati, e vi consiglio questo video di StephFR. Lo lasciamo là, perché il mio cervello non riesce neanche a processare che ci possa essere questo problema e da chissà quanto tempo. Qua vi voglio parlare di come sta funzionando YouTube 2024 e che ripercussioni ha sul mio canale. Perché io parlo di me e della mia tipologia, quindi gaming, intrattenimento. Non metto in dubbio che possa essere differente per altre categorie. Food non è così, Apple Tech... Non mi frega niente, ragazzi. Io parlo di me, parlo della mia soluzione, che per il gaming soprattutto è devastante. Prima vi spiego come funziona, e poi cerchiamo insieme delle soluzioni. Ma com'è YouTube nel 2024? È una YouTube completamente in mano a un algoritmo, che decide e sceglie cosa ti piace e che cosa devi guardare. Non ci credi? Vi mostro alcune cose. Siamo su YouTube con il mio canale, quindi tutto quello che adesso lui ci mostrerà è in base ai miei gusti, a quello che ho visto, a quello che ho guardato, e a quello che lui pensa che mi possa interessare. Ma io adesso sto cercando Mike Shosha. Un mio shorts, un ultimo mio video, in base a quando ho registrato questo video, ragazzi. Vabbè, le ultime cose che ho caricato, ok? Qua iniziano altri shorts non miei, e poi questo video qua. Vabbè, non mi interessa. Altro mio video. Altra roba che non è mia. Un mio video, un mio video. Guardate, ragazzi. Roba mia. E qua cominciano cose che... Sky. Jack Paul. Roba mia, ma... Del mio canale secondario. Non è mio. 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 Cioè, è Mike Shosha questo? Quindi come funziona? Tu cerchi una cosa, ma lui intanto ti dice Ma non ti potrebbe interessare pure questo? Ti piacerebbe pure questo? Ma scusa, ma io cercavo quello. Ora però facciamo lo stesso con la navigazione in incognito. YouTube pulita. E questo è quello che trovo. All'inizio, uguale. Vedete, ragazzi? Un po' di roba mia. Che è una pagina completamente bianca, quindi non ci sono i miei cookie, le mie ricerche e tutto. Vedete? C'è molto più Mike Shosha. Però ecco, gli altri utenti hanno guardato anche... che vai con Lion, Matteo Renzi, voglio dire. Comincia, ragazzi, a consigliarmi altre roba, poi si ritorna un po' con Mike Shosha. Già meglio, ma comunque c'è prova. E questo è un modo piuttosto subdolo. Mentre quello proprio diretto, se voi adesso andate su un canale, la primissima cosa che vedrete è la sezione per te. Ehm... Dove l'ho già vista sta cosa? Non serve che ve lo spiego, ma sono quei video di quel canale che YouTube pensa che ti possano piacere. Questi video ti piacciono? Io lo acquisto con un altro canale e questo è quello che mi consiglia. Questi sono quelli che mi consiglia di Murray. In particolare situazioni e per alcune realtà questa è una cosa ottima perché permette a tutti di avere più visualizzazioni perché se cercando Mike Shosha ti esce alta roba, è verosimile che cercando alta roba ti potrebbe uscire Mike Shosha. E se ne per te ti esce roba che sicuramente vedrai e ti porta a cliccare, bomba, hai preso una visualizzazione. Sì, ma anche no. Questa è una cosa mia personale, eh. Cioè, se qualcuno si guarda i video dei due o tre anni fa, lascia un po' il tempo che trova perché io faccio i video per dare continuità al lavoro che faccio adesso. Un video di due o tre anni fa, oggi, quello stesso video, lo monterei in un'altra maniera, probabilmente non lo rifarei. Sì, prendo la visualizzazione ma non so quanto mi dà continuità a quello che faccio adesso. Io non guardo la televisione perché già so che quello che propone non mi interessa. E il bello del web e di YouTube, soprattutto, nella mia testa è quello che io so che lì c'è qualcosa che sicuramente mi piacerà e che sta lì per me in qualsiasi momento ci posso andare adesso, ci posso andare tra un anno, trovo quello che mi piace. E sto sistema, però, mi ricorda la televisione perché mi fa pensare tu stai là, passivo, quello che ti sbatte in faccia, te guardi. E sarebbe bello sapere come ci siete finiti su questo video. Certo, lo saprò da qualche giorno, basta vedere i dati e so che ormai non c'è più quasi nessuno che va feed di iscrizioni o se lo vai proprio a cercare. Ormai è, se mi capita in home, bene, me lo guardo, altrimenti è. Seguite il paradosso perché da una parte tu guardi quello che ti piace, ma è davvero quello che ti piace? Ti sta dicendo ti devi guarda questo, ti piace questo, a te piace questo. È un sacco distopico perché sembra che c'avevi un sacco di libertà, ma ce l'hai veramente? Però il vero problema da creator è come funziona l'algoritmo sul singolo video. Che a voi spettatori capisco che può interessare relativamente, ma a noi sì perché questo ci porterà alle soluzioni che sentirete tra poco. Ma quello che vi sto per dire non lo dico io, lo dice YouTube. Utilizzo adesso delle parole comprensibili per tutti per farvi capire la situazione. Ma come funziona col video? Se prima tu caricavi il video e YouTube lo mostrava a due iscritti, a quelli che avevano attivato la campanella, a chi ti seguiva di più, adesso non è proprio così. Adesso l'algoritmo capisce che video è e dice ok, secondo me questo video può piacere a questa categoria di persone e glielo mostra e si aspetta determinati risultati. Possono essere watch time piuttosto che quanto tempo quella persona resta a guardare il video, tante cose che se vengono rispettate allora il video continua ad andare in giro e magari viene anche aperto o altre categorie. Ok, va funzionato, adesso potrebbe funzionare anche a queste persone. Però se non performa come pensa lui finito. Ragazzi, il video si blocca in attesa che compaia in giro così alle persone giuste che hanno un reale interesse lo fanno riattivare gli permettono di andare in giro. Questa è la fine di tutto. Cioè ci porta a fare sempre le stesse cose sempre per lo stesso pubblico quello e quello e basta. Estrema verticalità la morte della creatività la morte dello sperimentare la morte dei canali come il mio che hanno o avevano non so più non lo so che devo dire una community estremamente fidelizzata io ho uno dei canali più fidelizzati in Italia fortunatamente ma prima di parlare di soluzioni eccomi tornato perché devo aggiungere qualcosa perché quello che avete visto l'ho registrato quasi una settimana fa e nel mentre ho analizzato e sono successe delle cose spiegano proprio quello che vi ho mostrato prima io adesso vi mostro e vi parlo della mia situazione ma vale per tutti perché adesso youtube funziona così importante per me che voi capiate perché tra un po' vi devo parlare del gaming che è ancora peggio ma quello che penso che adesso vi farà capire tutta la situazione è il video con Vinicius che in questo momento ha quasi 300.000 visualizzazioni per la youtube del 2024 è buono qualche mese fa o un po' di tempo fa questo video adesso stava già a 600 700.000 visualizzazioni vabbè se fino adesso avevamo opinioni qua ci abbiamo dati questo video l'ho annunciato su instagram con questo post che in questo momento ha 101.000 mi piace ma è stato visto da 430.000 persone ok la sera del giorno del post di instagram io ho messo un teaserino su tiktok che dà appuntamento al giorno dopo per l'uscita del video tra la notte e la mattina quel tiktok ha fatto oltre 700.000 visualizzazioni tant'è vero ragazzi che la mattina seguente sulla barra di youtube scrivendo Mike Shosha ti suggeriva Mike Shosha Vinicius quindi pensate quanta gente l'ha cercato hype che si è tradotto in queste visualizzazioni già così notate la sproporzione cioè il teaser quasi un milione il video 300.000 abbiamo scoperto facendo un video se no non me ne sarei mai accorto che un utente ha preso il mio video lo ha ricaricato per intero su tiktok quando io me ne so accorto gli ho chiesto di rimuoverlo perché cioè vabbè scammati ma proprio così il video su tiktok caricato da antizio qualunque aveva fatto 700.000 views la fonte originale invece neanche 300.000 cioè io non so se state capendo qua quindi tornando a come funziona ve la faccio vedere queste sono le segrete stanze di youtube tre giorni dall'uscita sto video c'ha 2 milioni di impression ora le prime 24 ore non c'ha neanche un milione di impression cioè come fa sto video a esplodere se non lo mostri un milione di impression mie era un video di fifa blandissimo qualche mese fa infatti facevo 150 200.000 visualizzazioni no? che guardate un po' son le views di Vinicius dopo 24 ore cioè ragazzi questo è il problema cioè se il video non appare se il video non viene mostrato perché ormai youtube è solo quello che lui ti mostra perché ormai nessuno se li va a cercare tutto il resto cioè raga da una parte ci abbiamo un milione metteteci pure le 700.000 fatte da uno sconosciuto che mi ha scammato il video quello ha fatto più del doppio delle views mie col contenuto mio su un'altra piattaforma io non ho dubbi che questo video di Vinicius se lo andiamo a riprendere tra un mese tra un tot ci avrà un sacco di views perché piano piano sarà stato mostrato alle persone giuste alle persone interessate tutta sta visibilità che non c'è su youtube è stata all'altra parte chi me la ridà sul video di youtube poi ho raga risultati eccezionali perché so comunque i risultati che vengono a destra a sinistra a me sta bene uguale che facciano le reazioni gli streamer che vengano ricaricate delle clip tutto il video no dai va bene cioè è il risultato per me ma sulla piattaforma principale cioè capite che c'è qualcosa che non funziona ecco se tutto questo succede per un video così potente secondo voi che succede per il gaming ecco e guardate come cosa mi fa sperare questo ragazzi questa cosa qua ecco qui lui ha capito che deve mostrarlo a più gente però sono passati tre giorni parliamo un attimo di soluzioni possibili perché per quanto riguarda i video forse una possibile soluzione è fare meno video più curati e che diano pure all'algoritmo il tempo di girare tanto a voi non cambia niente perché magari io ho fatto il video oggi ve l'ho mostrato tra due settimane magari manco ve ne accorgete che uno carica di meno a livello creativo invece se la situazione è questa penso forse la cosa giusta è tornare indietro alla youtube virale che ho già fatto nel 2016-2018 vi ricordate il pallone la ruota la pistola io questo l'ho già fatto posso rifarlo? sì voglio rifarlo e mi piace? non lo so ragazzi io adesso sto in un'altra fase della vita il grande problema però è il gaming che è la vera cosa che mi ha spinto poi a fare questo video perché per un gioco nuovo e che quindi voglio dire ancora non esce che cacchio ne sai a chi gli può piacere che youtube gaming sia nella melma siamo d'accordo queste sono le tendenze in questo momento che registro italiane gaming giochi ragazzi guardate cioè manco su tiktok ci stanno tutti sti shorts guarda per arrivare al primo video dobbiamo arrivare qua che però è la got league quindi non è neanche gaming cioè questo è calcio riscendo 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 guarda guarda ecco c'è kendall che dovrebbe essere vediamo quant'è ventitresimo le tendenze poi non servono a niente siamo d'accordo però sono un metro e sono sicuramente lo specchio di quello che sta succedendo in italia perché non metto in dubbio che questa cosa sia ancora più problematica in italia che poi chissà che è successo quando i più grandi youtuber italiani erano i gamer anche quello è ventitresimo se levi tutti gli shorts sei comunque primo però io vi devo mostrare le conseguenze di queste scelte soprattutto per quello che faccio io qualche giorno fa ho messo la prima parte di final fantasy 7 rebirth sì cioè qua parliamo the game of the year roba pazzesca un gioco clamoroso però posso capire che è il seguito di un remake tanti ci avranno giocato potrebbe aver destato meno interesse però raga 68.000 views in 11 giorni io avevo caricato anche un secondo episodio l'ho tolto perché c'era il copyright dopo 24 ore c'aveva 16.000 views io capisco il disinteresse mi piace mi interessa per farvi capire il mio canale al giorno ma adesso ho un po' calato fa almeno 400.000 views al giorno senza caricare 16.000 non carico mi risparmio il tempo il montaggio il gioco con mi figlia 400 senza caricare 16.000 vabbè però un tuo video così è comunque il più visto in Italia beh beh pensa appunto pensate questo è il canale più grande al mondo che fa world true ci avrei un po' da ridire anche lui si è bloccato per il copyright vedete questo video parla di questo cosa del copyright ora ragazzi guardando questo canale vedete questa è la prima parte di Rebirth 9 giorni fa questo c'ha 14 milioni di iscritti è il più grande al mondo ha fatto solo 200.000 se posso dire in proporzione no ma la cosa che mi ha spaventato è che se è così per lui ragazzi e se è andato a fare della comparazione per esempio con Suicide Squad cioè noi abbiamo fatto gli stessi numeri ragazzi sono i numeri miei cioè sono i numeri nostri vedete noi ci stiamo l'Italia c'è noi siamo forti questa cosa mi fa impazzire è che noi ci stiamo se tu glielo mostri la gente se le guarda queste cose la cosa che mi preoccupa è che se succede a canali così grandi vuol dire che è l'algoritmo vuol dire che io lui chiunque non ci possiamo fare niente ed è il gaming e in quello che faccio io sta cosa è la fine immaginatevi questo c'è gioco nuovo e io faccio la parte 1 ma se quella parte 1 non la mostri al mio pubblico che non sai se può essere interessato o no perché è un gioco nuovo ma chi lo conosce fa glielo vedere magari gli interessa ma se non glielo mostri come fa a interessarli e io di questo ragazzi ho sinceramente paura perché per quanto vi posso dire si raga quel giorno esce mettetevi la sveglia andate a vedere poi è una piccola percentuale di quelli che lo fanno questa cosa qua cioè se io lo faccio oggi e tu lo mostri tra due settimane per un gioco nuovo non serve lo devi mostrare adesso perché tra due settimane se lo saranno giocato l'avranno visto da altre parti cioè già adesso ti posso dire che è una roba che è una follia io sto andando a fare una cosa che già so che potrebbe non funzionare mo che ne parlo sto proprio prendendo consapevolezza che non c'è soluzione perché c'è sempre il solito problema dei wall true sapete io faccio le serie però per chi le segue bella però per chi non le guarda youtube fa così lo vuoi vedere sto video parte 1 no vuoi vedere la parte 2 no vuoi vedere la parte 3 ok la parte 4 non ti ha la mostra per niente che comporta a me finisco la serie e riprendo a fare video normali i video nuovi che farò dopo la serie non vengono mostrati a tutti quelli che non hanno seguito la serie ci ho sempre messo un po' di più a riattivare a riattivare la community però io l'ho sempre fatto ragazzi perché sono nato qui wall true è una cosa che mi piace sono anche famoso per quello no io oggi sto qui per trovare una soluzione non per dirvi raga è oggettivamente un'ammazzata perché il problema non è fallo non fallo ma che te frega dei numeri a dei numeri non mi frega niente ho fatto tante serie che sapevo che avrebbero raccolto di meno ma in generale raga qualsiasi cosa oggi fa più views del gaming lo facevo per altri motivi però non posso rischiare il canale cioè non mi posso ammazzare perché la situazione è brutta soluzioni la soluzione più facile sarebbe spostare il gaming sul sito viola avevo intenzione di prendere a fare live dove capiamo perché si può fare pure la multistream d'altra parte però sapete che il mio tempo la mia situazione attuale non è che consentano tanto un'attività di questo tipo perché poi raga non è fare una live ogni tanto quello lo vuoi fare lo vuoi fare sempre se faccio qualcosa mi impegno e voglio performare però d'altra parte non sarebbe la stessa cosa raga se faccio le serie in live non me ne vogliano però divento come tutti gli altri cioè lo utilizzerei così live su sito viola che è il mio principale in contemporanea anche su my social live così lo usiamo pure quell'altro questo rimane pulito e in caso i video vanno rimessi lì un'altra soluzione potrebbe essere questa ragazzi la serie inizia con la parte 1 sul primo e continua sul secondo così chi se lo vuole vedere sta là e io vi faccio la serie diciamo serie minori chiaro che i god of horror e i spider man rimarranno sempre sul primo il canale principale di quella cosa potrebbe diventare il secondo non lo so io chiedo a voi che non sia ma che te frega fallo lo stesso perché mi ammazzo il canale poi dopo leggo nei commenti ma perché non hai continuato la serie figa se lo sapete capitate nella sezione commenti vedete questi commenti aiutatemi anche voi a spiegare la situazione altro esempio che mi ha ceso la spia è WWE non era il risultato che mi aspettavo anche perché considerate questo è il terzo anno che iniziamo questo tipo di serie e lo metto in conto dici vabbè oh ma il terzo anno che lo fai no magari Cosyman ha fatto 200 quindi top pure quello due anni fa forse abbiamo overperformato con quasi un milione però l'anno scorso 350 ce li siamo portati a casa al terzo anno dici vabbè oh accontentati però se io faccio il confronto tra questo video e questo qua sto video aveva fatto circa 30.000 views erano passate forse 12 ore questo video un anno fa 30.000 views l'aveva fatta dopo un'ora questa è la youtube da adesso non penso che la situazione migliorerà sarà fatta di tutto per trasformare sta piattaforma in un social ma non ce n'è bisogno se vuoi andare su tiktok vado su tiktok e a proposito di questo io rise of the running ce l'ho già ci sto giocando e ho registrato due puntate me sa che non è un gioco da serie a me piace un sacco devo dire è una settimana che sto là e dico che devo fare lo faccio lo faccio ragazzi può pure stare che uno prenda la decisione che no non lo faccio mi dispiace vi chiedo scusa oh non se può fare perché la piattaforma non me lo concede io non sto nella condizione di farlo perché e c'è postati di no io ragazzi ho un sacco paura di deludervi però devo pure prendere decisioni che vadano a favore mio invece devo rimanere su sta piattaforma cioè se mi ammazzo da solo poi comunque i video non li vedete c'è un tempo uno avrebbe detto oh accendete la campanella eh beh non serve più a niente oh questa è un'altra serie che non continuerà allora se tu non guardi i video nei primi 30 secondi dei video dico se sarà una serie oppure no perché lo devo chiamare in un altro modo devo scrivere in un serie e te lo scrivo nel titolo se vuoi però se è una serie la serie finisce negli ultimi anni io vi ho proposto le parti 1 cioè iniziamo il gioco cioè giocammo la prima ora poi o me lo continua solo per quelli che mi piacciono tipo Final Fantasy sto a 60 ore ma secondo voi 60 ore di gioco per quanto puoi tagliare come le produco su youtube tagliandola a metà so 30 video secondo voi 30 video se il secondo c'è la 16k il trentesimo ma chi se lo guarda al decimo episodio chi se lo sta a guardare nessuno allora è un lavoro inutile in motivo per cui non sto facendo più serie lunghissime a meno che non è proprio God of War perché ragazzi va contro a quello che è youtube adesso farò il possibile farò il mio massimo forse voi non hai capito quanto sono matto ho troppa passione per questo lavoro e non voglio nessuno che scappa voglio trovare una soluzione vi leggo grazie mille per il tempo grazie mille per il tempo